Ultimi minuti per votare per referendum comunali. I seggi chiudono alle 15, subito dopo inizia lo scurtinio delle schede del referendum sul taglio dei parlamentari. Risultati dunque nel pomeriggio. Per le comunali invece bisognerà attendere domattina. Nei 20 centri molisani, chiamati a eleggere i sindaci, le urne saranno aperte alle 9, verdetti dunque in mattinata. Il coronavirus non ha affermato gli elettori. Al termine della giornata di ieri l'affluenza per il referendum in regione si è attestata al 33,33%. Comunque sei punti sotto la media nazionale che sfiora il 40%. Per le comunali affluenza notevolmente più alta, 40,33%. Il centro dove si è votato di più è Conca Casale con il 59,4%. Quello con l'affluenza più bassa, 25,7%, è stato Bonefro. A livello locale le sfide più rilevanti sono tre, quelle di Boiano, Montenero di Bisaccia e Agnone. Nel centro Matesino, dopo un lungo commissariamento, si sfidano Maria Cristina Spina e Carmine Ruscetta. Sfida due anche a Montenero di Bisaccia, tra Fabio Delizio e Simona Contucci. Ad Agnone invece tre schieramenti in campo guidati da Agostino Iannelli, Vincenzo Scarano e Daniele Saia. Niente simboli di partito, si tratta di sole liste civiche. Nei piccolissimi comuni si ripete una scena già vista in passato. Tante liste a fronte di poche centinaia di abitanti. Il record va a Casal Ciprano, 500 abitanti e ben 7 liste in corsa. Poi Conca Casale, 5 liste in campo per appena 170 residenti. 5 liste anche a cerce piccola. Telemolise come sempre seguirà minuto per minuto lo scrutinio delle comunali per tutta la mattinata di domani, con collegamenti in diretta da tutti i centri chiamati a scegliere i loro sindaci.